nella zona del rione nero in quella che da pochi anni si chiama piazzetta carlos dauli ovvero l'angolo fra le vie sarti e la via emiliani si trova un palazzo come tanti altri del centro storico in realtà però ha un angolo importante che ci racconta la sua storia e guardandolo meglio possiamo notare questi grossi blocchi in pietra una pietra locale provvedente da santa lucia che viene chiamata spungone che abbiamo anche incontrato in altre curiosità legate alla storia della città nell'ultimo blocco si nota lo stemma della famiglia cittadini scolpito dalla famiglia stessa quasi a voler sottolineare la proprietà di questo edificio era una delle famiglie più importanti del rinascimento faentino che possiamo ritrovare nel consiglio dei centri sapienti che gestiva il potere legislativo in città e fuori da faenza erano considerati uomini di spiccata cultura faenza in un minuto